Che cosa le è piaciuto e che cosa le è piaciuto meno nel discorso di Giorgia Meloni? Ma no, a me è piaciuto sostanzialmente tutto perché ha dato anche un'impronta chiara, a di là dei temi specifici, proprio di quello che si vuole fare, di qual è... Di prospettiva. Di prospettiva, perché poi il tema vero di questa legislatura è che finalmente abbiamo un governo politico con una prospettiva politica chiara, cioè ha vinto il centro-destra e governa il centro-destra. E in economia la stabilità è un valore molto importante, quindi il fatto che ci sia una prospettiva chiara, semplice, aiuta a mettere ordine. Se poi andiamo a vedere quali sono i temi, a me è piaciuto molto l'impronta chiaramente liberale. Il PIL lo fanno le imprese, non disturbiamo le imprese, facciamoli lavorare. Questo è sicuramente molto, molto importante e aderente anche... A dispetto, mi scusi, molti che dicono invece, attenzione, potrebbe essere un governo fortemente tentato dallo statalismo. Infatti è stata importante questa sottolineatura, che per quello che riguarda la Lega, da sempre vicino alle partite IVA, chiaramente ci trova pienamente d'accordo. Poi contemperato da quel bel accenno al benessere che ricorda un po' la Costituzione francese post-rivoluzione, per cui sì, l'intervento dello Stato per garantire il benessere dei cittadini, perfetto. Quello ci sta, quindi impresa e un giusto, tranquillo intervento dello Stato, senza esagerare. Quindi l'impronta generale è molto convincente. Ma sul passaggio sull'Ucraina la Lega non ha applaudito, che è successo? No, non c'era, non ho visto, ma... Sì, lo so, lei non era alla Camera, però, insomma, si è scritto. Sul quadro geopolitico non ci sono assolutamente dubbi, quindi è un aspetto assolutamente da non mettere in discussione. Anche le sanzioni? Tutto, tutto quello che è l'orientamento di questo governo e l'impronta comune in Europa è chiarissima e non è discussa.